Insomma, alla fine avete vinto, ce l'avete fatta, Mario Pardini al nuovo sindaco di Lucca. Alla fine ce l'abbiamo fatta, abbiamo creduto in lui fin dal primo momento, abbiamo riportato di nuovo questa città alle origini, che è quella del centro-destra, abbiamo cambiato totalmente direzione, speriamo di, sicuramente amministreremo la città in maniera diversa, ho fatto cinque anni di opposizione in consiglio comunale, sono stato il più votato di tutta la coalizione. E spero di dare un apporto positivo a questa città. Cosa è mancata a questa città e su cosa lavorerete? Ma sicuramente sul sociale, sul commercio, ci sono tante attività sulle imprese da vedere, da rivedere. E' chiaro che da domani dobbiamo già subito metterci al lavoro per cercare di riproporre di nuovo una nuova gestione di questa città che è stata fallimentare per questi dieci anni.